Errani e Valvasori nella storia, vincono gli US Open, doppio misto dopo una partita al full di cotone e contro i padroni di casa Young Tousand e entrano nella storia con il punteggio di 76-75. Grande ragazzi! Questa sera alle 21 Yannick Sinner contro il britannico Drafair. Luna Rossa, sempre più padrona, batte ancora i francesi di Orient Express ma il risultato che non ti aspetti lo mette a segno a Linghi che batte American Magic. I risultati di ieri American Magic 1, Ineos Britannia. Luna Rossa batte Orient Express, Ineos Britannia perde contro Emirates Team New Zealand. A Linghi, come abbiamo appena detto, vince contro American Magic e Orient Express perde contro il Team New Zealand. La classifica che ci interessa, ovvero quella senza i defender, vedono Luna Rossa con 5 vittorie e 0 sconfitte, Ineos Britannia con 3 vittorie e 2 sconfitte, American Magic con 3 vittorie e 3 sconfitte, Alinghi con 2 vittorie e 4 sconfitte, Orient Express con 1 vittoria e 5 sconfitte. Buon vento a tutti!